Ecco altre sei lezioni di vita da un novantenne che non dovresti mai dimenticare. Non posticipare la tua felicità per il futuro. Il domani non è promesso a nessuno. Quando stai scrivendo la storia della tua vita, non permettere che nessun altro prenda in mano la penna. Non avere paura di rischiare o trovare cose nuove. La vita è troppo corta per andare sempre sul sicuro. Il dolore che senti oggi sarà la forza che sentirai domani. Non aspettare il momento perfetto. Prendilo e rendilo perfetto. Ed infine, le persone più forti non sono quelle che mostrano forza davanti a noi, ma quelle che combattono battaglie di cui non siamo ancora.